Cerchiamo una lavatrice Non è facile scegliere una lavatrice fra tante, ma confrontando prezzo e capacità troverò la mia lavatrice. Questa? No, è troppo ingombrante. Questa? Costa un capitale? Questa? Non è automatica. Questa? Questa sì, minimo ingombro. Lava alla perfezione 5 kg di biancheria e quanto vi fa risparmiare? Questa è la mia lavatrice. Tu lei Tu lei e lui Tu lei e lui voi Tu lei e lui voi Noi abbiamo la lavatrice Indesit, l'unica lavatrice automatica montata su rotelle con stabilizzatore. Automatismo totale con riscaldamento automatico sino a 100 gradi per la scelta di qualsiasi programma di lavaggio. Sterilizza 5 kg di biancheria. Indesit è l'unica automatica con il ricupero dell'acqua calda. Lava 5 kg di biancheria asciutta. E a sole lire 89.000 la nuova superautomatica Indesit a doppio lavaggio. L'unica superautomatica a temperatura ascendente per biancheria resistente e a temperatura discendente per biancheria fine e delicata. Indesit, lavatrice automatica e superautomatica in quattro modelli diversi da lire 89.000 in su. Il marchio Indesit è la più sicura garanzia di qualità.